intanto io comincio a presentarmi sono roberta villa qualcuno di voi già mi conosce sono una giornalista scientifica un'antica laurea in medicina che ho usato soltanto per fare la comunicatrice scientifica giornalista scientifica amica da molti anni di fondazione bassetti che ringrazio di avermi coinvolto in questo evento molto interessante questo evento fa parte di una serie di eventi che ci invitano un po riflettere sui temi anche etici filosofici legati alla vaccinazione spesso troppo spesso si sta parlando in questi mesi in questa settimana anche a mio parere di vaccini come se fossero una questione solo tecnica solo dei farmaci ci sono molti elementi di riflessione che attraverso questi incontri si vogliono approfondire per cominciare chiederei al professor samore se vuole fare un saluto da parte della fondazione bassetti buongiorno a tutti buongiorno roberta grazie infinite per la disponibilità a questa moderazione al quale come sai tenevamo molto voglio ringraziare semplicemente e non mi dilungherò Andrea Lavazza perché è stato la persona dal cui sprone è partita la volontà di concentrarsi in un periodo in cui tutti in un modo o nell'altro siamo costretti a parlare di pandemia e correlati di concentrarsi sugli aspetti di innovazione responsabile legati a diversi modi di affrontare ciò che tutti siamo costretti ad affrontare in quest'anno speriamo ancora per il più breve tempo possibile come tutte e tutti probabilmente sanno fondazione bassetti si occupa di responsabilità dell'innovazione da 25 anni e abbiamo dovuto constatare come sempre più spesso tutto ciò che comporta processi di innovazione voluti e non voluti comporta un di più di domanda di governo di questi processi però il governo di qualcosa di complesso e in buona misura di improbabile prima che avvenga non è semplice e dunque richiede tante voci soprattutto emergenti dalla società che si confrontino che si confrontino con i cosiddetti saperi esperti che ne contrastino se possibile la crisi che se sollecitino i policy maker a fare consapevolmente il proprio lavoro eccetera dunque oggi ascolterò con molto piacere voglio soltanto sottolineare che come sempre avveniva quando facevamo gli incontri in presenza e comunque come sempre avvenuto quando abbiamo avuto l'opportunità di sollecitare dei momenti di confronto le persone collegate che normalmente chiameremo pubblico sono diciamo ben più di un semplice pubblico perché sono sostanzialmente sempre persone che si portano sulle spalle un qualche grado di responsabilità operante e dunque è ancora più affascinante poter promuovere modestamente cioè nel nostro piccolo il lavoro di conversazione che fondazione bassetti sia ospita possa proseguire quindi grazie a tutti in anticipo e a tutte per il lavoro di questa mattina eh grazie professor Samorè eh sottolineo un aspetto come giustamente è stato detto ehm i partecipanti in questo caso non sono un semplice pubblico ma sono eh per lo più persone che hanno qualcosa da dire di importante spesso ed interessante rispetto al tema eh oggetto del confronto di oggi per cui io invito tutti a non esitare a eh fare commenti o domande nella chat che io poi porterò eh all'attenzione di tutti poi verso la fine magari cerchiamo anche di lasciare uno spazio proprio anche per eh il confronto a voce se qualcuno desidera intervenire eh in prima persona ehm come vi dicevo questo incontro fa parte di una serie e quindi eh sarebbe importante cominciare anche a riprendere il filo dalla ehm dall'incontro precedente non è eh una puntata che ci siamo persi eh anch'io purtroppo non ho potuto partecipare la volta scorsa ma anche là sono usciti dei temi e degli spunti interessanti che vale la pena riprendere per questo darei la parola al professor Perconti dell'Università di Messina filosofo della mente dell'Università di Messina eh che appunto ha condotto anche eh la volta scorsa un po' eh l'incontro e a cui chiederei di eh diciamo riprendere un po' le fila dell'argomento Grazie e buongiorno a tutti e grazie ancora alla Fondazione Bassetti per aver raccolto eh promosso in questo modo eh molto produttivo questo ciclo di incontri è vero questa è la seconda puntata ma diciamo come eh succede nelle migliori serie di Netflix ogni puntata si può fruire ehm in maniera autonoma tuttavia avere il brevemente il filo del discorso potrebbe tornare utile e in particolare cosa potrebbe tornare utile della puntata precedente beh eh noi avevamo l'intuizione diciamo così da cui siamo partiti era che eh occorresse qualcosa di più del semplice buonsenso nella formulazione di un piano di distribuzione dei vaccini e che non fosse sufficiente affidarsi eh alle ehm al buonsenso eh per eh immaginare la migliore strategia di allocazione di questa importante risorsa eh sono due essenzialmente le strade che si possono prendere una è una strada che eh mira eh soprattutto a eh diminuire attraverso la distribuzione la somministrazione dei vaccini il contagio e un'altra strada invece mira a proteggere le persone più deboli il piano vaccinale del nostro eh governo è eh orientato esplicitamente verso il secondo di questi valori eh quindi la protezione delle persone più deboli eh questo è mh eh è materia di discussione perché se si adotta una eh un atteggiamento etico ehm che è basato sull'utilitarismo in definitiva si eh eh può darsi che eh eh sia raccomandabile prendere eh prendere una strada diversa da quella che il nostro paese intende prendere dopo la prima fase di somministrazione alle persone che lavorano nel settore sanitario e che lavorano nelle RSA e agli ospiti dell'RSA in particolare potrebbe essere più conveniente vaccinare le persone più giovani e più mobili sulle 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 cui gambe il vaccino continua a eh il virus continua a camminare eh invece che procedere eh in modo scalare eh contando il il grado di fragilità delle persone correndo in questo modo il rischio di eh consentire al virus di ehm eh viaggiare abbastanza liberamente con rischi come abbiamo visto nelle ultime settimane anche forti in termini di varianti che finora non sembrano essere eh escluse dalla protezione dei vaccini attuali ma che non è escluso che possano diventarlo tra qualche mese. Eh questa alternativa è un'alternativa ehm che è etica e tuttavia che richiede anche studio perché ci vogliono dei modelli eh predittivi computazionali che riescano eh a eh fare previsioni su quale dei due scenari eh produce in definitiva meno sofferenza sulla popolazione. Questo non è così chiaro e sarebbe bene che gli studiosi diciamo si impegnassero in eh in questo sforzo. Questi nostri timori che avevamo coltivato prima di eh di Natale purtroppo si stanno eh rivelando fondate in questi giorni, in queste settimane proprio perché eh la disponibilità dei vaccini sembra molto meno eh ampia di quanto immaginavamo e quindi in eh in un momento in cui la risorsa iniziale è scarsa eh diventa particolarmente importante eh essere consapevoli a quali valori ci ispiriamo nel operare la nostra scelta. Questo mi sembra che è il il quadro di riferimento che eh eh l'incontro precedente può consegnare alla alla riflessione di oggi. Grazie mille professor Perconti. È molto importante avere le idee chiare su questo. C'è un documento del Centro Europeo per il controllo delle malattie, le CDC che molto chiaramente definisce le diverse strategie in relazione a diversi obiettivi e eh la strategia utilizzata da eh tutti i paesi europei sostanzialmente la maggior parte dei paesi del mondo è quella di proteggere i più fragili proprio perché eh a tutt'oggi noi non abbiamo la certezza che questi vaccini siano in grado di bloccare la trasmissione e quindi che possano essere utili eh allo scopo di appunto eh fermare eh il contagio. È proprio la carenza di vaccini visto che le popolazioni mobili sono eh molto più elevate tra l'altro richiederebbe anche eh numeri molto maggiori eh di dosi rispetto a quelle disponibili. È comunque un tema aperto che appunto eh resta aperto anche sulla base delle eh diciamo dei dati scientifici che si stanno accumulando delle risposte che ci potranno dare diversi vaccini eh su questo eh aspetto ma per il momento diciamo che tutto il mondo anzi devo dire che gli altri paesi si sono concentrati di più sui grandi anziani sulle persone a rischio mentre in Italia è stato molto privilegiato rispetto agli anziani il personale che gira intorno agli ospedali proprio con l'idea di creare gli ospedali diciamo covid free ehm cosa che non siamo sicuri che questi vaccini siano in grado di eh dare ma appunto è un tema che eh resta aperto soprattutto speriamo tutti questi vaccini abbiano anche questa proprietà eh perché se questo non fosse ovviamente tutto eh tutta la strategia di contenimento della pandemia eh sarebbe eh gravemente compromessa. Ecco partiamo da qui eh partiamo da qui mettiamoci un po' però diciamo anche nello stile eh di questi incontri dalla parte del pubblico cerchiamo di capire come le persone eh hanno percepito finora questo tema come è stato comunicato loro per capire anche come coinvolgerli al meglio ehm in questo progetto di vaccinazione di massa che sicuramente è essenziale perché anche se non eh queste vaccinazioni non bloccassero la trasmissione comunque è evidente che riuscire a impedire le forme gravi impedire i ricoveri ricoveri in terapia intensiva già cambierebbe totalmente eh la faccia di questa pandemia ci consentirebbe diciamo di vivere con un'influenza in più ma eh senza eh l'enorme blocco dei sistemi sanitari le conseguenze anche sulle altre malattie e così via. E diciamo per avere un po' il quadro di quello che eh le persone gli italiani pensano della campagna vaccinale ma in generale eh del eh insomma di come è stata gestita la comunicazione eh in questi mesi abbiamo con noi Barbara Saracino sociologa dell'Università di Bologna e eh diciamo che per observa la società di eh non so come definirla un po' il punto di riferimento diciamo di questi eh di questo osservatorio sulla società italiana ehm hanno fatto una delle loro eh indagini sempre molto utili per capire il rapporto tra scienza e società eh proprio basato su questi sulla percezione degli italiani in riferimento alle vaccinazioni e alla comunicazione che è stata fatta su Covid per cui chiedo alla professoressa Saracino se ci può un pochino illustrare i loro ultimi risultati. Certo. Ehm vi tedierò con alcune slide ma solo per mostrarvi i dati. Vi pregherei di interrompermi anche mentre sto parlando perché eh i seminari online sono anche più noiosi dei seminari in presenza quindi interrompetemi tutte le volte che volete mi fa piacere se mi interrompete e mi chiedete delucidazioni su alcuni dati io ve le mostro semplicemente appunto per farveli leggere i dati e non solo raccontarveli ehm però appunto se non vi eh vi sorgono delle curiosità mentre ve li sto mostrando eh fermatemi pure. Ehm sì l'osservatorio scienza tecnologia società di observa è praticamente un monitoraggio permanente dei rapporti eh tra scienze e cittadini rileva gli orientamenti eh sulla scienza e la tecnologia degli italiani dal duemila e tre in realtà eh con un'indagine campionare annuale ehm succede che a marzo quando stiamo ogni anno la rilevazione viene fatta tra marzo e aprile eh l'anno scorso succede che a marzo mentre prepariamo la rilevazione appunto annuale eh sta eh per essere dichiarata la pandemia e qui cominciano ci sono i primi casi eh in Italia come tutti sappiamo e quindi eh aggiungiamo alle domande le solite domande che facciamo su alfabetismo scientifico esposizione alla scienza nei media ehm orientamenti appunto fiducia nei confronti della scienza e degli scienziati eh aggiungiamo un po' di domande su quello che sta succedendo come si stanno informando chiediamo agli italiani come si stanno informando su quella che in quel momento ancora non è dichiarata come pandemia dall'OMS eh chiediamo mh un giudizio qual è la la fiducia nelle fonti di informazioni un giudizio sull'operato eh dei soggetti coinvolti nell'emergenza eh e ovviamente eh domande sulla percezione dei rischi eh questo succede appunto a marzo vedete in questa slide la prima slide è eh la domanda dove si sta informando principalmente eh e vedete i primi dati vengono raccolti raccogliamo i primi dati tra il tre e il dieci marzo eh specifico che campione su cui raccogliamo dati è un campione rappresentativo della popolazione italiana ehm per età sesso eh e eh titolo di studio e provincia di residenza ehm quindi ehm raccogliamo i primi dati tra il tre e il dieci marzo riraccogliamo un mese di distanza in pieno lockdown tra il due e il nove aprile eh facciamo nuove domande le domande alcune domande come questa che vedete ed altre domande nuove tra il ventuno e il trenta ottobre e poi abbiamo lanciato e proprio oggi vi faccio vedere eh i primi questi nuovi dati perché lanciamo una nuova rilevazione abbiamo fatto una rilevazione tra il venti e il venticinque gennaio eh ieri mentre eh Roberta Villa mi chiamava al telefono per parlare di oggi ho ho provato a fare un po' di analisi anche mi è arrivata la matrice e quindi ho provato a fare anche un po' di analisi quindi vedete anche un po' di eh di dati degli ultimi dati raccolti ehm in anteprima ehm la posso interrompere certo era questo il patto allora eh trovo subito un dato molto interessante che riflette la mia impressione quanto sia elevata rispetto diciamo alla al dato di base del tre dieci marzo le persone che non si stanno informando sono solo il sei per cento ma nettamente superiore a quelle dei mesi precedenti e mi sembra che rispecchi questa pandemic fatigue che sentono le persone che non ne possono più di sentire parlare solo di pandemia chiudo sì ehm uno degli obiettivi di chiacchierare mentre vi faccio vedere una slide che così voi nel frattempo la vedete e praticamente la commentate da soli un'altra cosa che vi vorrei far notare è il ruolo dei notiziari televisivi e radiofonici questa slide ci mostra ehm una l'idea che eh diciamo va contro l'idea che appunto le persone si informino ormai solo attraverso i social network o il web no? Che è una cosa che spesso si dice ma il ruolo importante ancora vi fa notare il ruolo importante dei notiziari televisivi e radiofonici ancora che tiene ancora il ruolo importante sì ho notato anch'io Roberta ieri quando ho fatto le analisi quel sei per cento che non era mai non c'era mai stato una percentuale come vedete delle persone che eh non dichiarano oggi che non si stanno informando eh e ehm vi vorrevo far notare anche la seconda fonte di informazione i canali istituzionali i canali web istituzionali le regioni e il ministero ok passo avanti poi appunto se avete commenti ne discutiamo ancora un qual è la fonte di cui si fida di più vi ho fatto notare in quella slide le istituzioni infatti è eh come vedete la prima fonte solo le indicazioni delle istituzioni ciò che cambia il Bordeaux è sempre il dato relativo appunto a questa settimana a questa settimana eh quello che aumenta è la fiducia nel medico di base che avete vedete era alta tra il tre e il dieci marzo poi c'era stato eh un problema anche di contatto no con i medici di base e adesso invece per la questione vaccinazioni torna a crescere la fiducia nel medico di base affidarsi del medico di base per avere informazioni e quindi per ehm prendere le decisioni come vedete un'altra cosa eh sempre sulla questione social ehm web e social vedete che i forum su bello e i contatti social sono all'ultimo posto ehm abbiamo chiesto vi dicevo i giudizi sull'operato eh dei soggetti ehm che sono intervenuti e che stanno intervenendo ehm vedete eh che eh questo è mh la domanda era un giudizio positivo negativo l'alternativa era positivo o negativo o non so giudicare nella slide vi ho messo solo le percentuali di risposte positive quindi di coloro che danno un giudizio positivo agli attori eh vedete l'elenco a destra l'elenco di tutti gli attori vedete al primo posto la protezione civile eh al secondo il comune di residenza al terzo la regione o la provincia di residenza abbiamo le due province autonome eh al quarto gli esperti scientifici nazionali al quinto il governo nazionale al sesto l'organizzazione mondiale della sanità ehm sale ed è l'unico cambiamento diciamo nella classifica l'unione europea e poi all'ultimo posto i medi di informazione ehm vedete eh questa ehm slide ci mostra il picco un picco eh di giudizi positivi per tutti i soggetti che vi ho elencato tra il due e il nuovo aprile eh rende forse un po' plasticamente eh il fenomeno ritorno alla bandiera nei momenti di crisi eh questo però situazione poi questi giudizi positivi calano fortemente tra il ventuno e il trenta ottobre come vedete per un po' risalire tra il venti e non tornare ai livelli eh precedenti ma per un po' un po' risalire tra il nell'ultima rilevazione questa di di questa settimana ehm quello che ci colpì eh il eh il durante le prime rilevazioni eh fu eh quando facemmo le prime rilevazioni era il ruolo il giudizio nei confronti degli esperti scientifici nazionali e quindi ci siamo chiesti perché c'era questo giudizio nei confronti degli esperti scientifici nazionali perché osserva negli anni ha rilevato sempre un grado di fiducia e un giudizio molto positivo nei confronti nei confronti della scienza e degli scienziati e quindi eh a partire dalla seconda rilevazione abbiamo provato a chiedere hm ci siamo interrogati sulla questione della comunicazione hm degli esperti scientifici abbiamo fatto questa domanda gli esperti scientifici italiani che sono intervenuti pubblicamente pensi a questi qui e ci dica con quali informazioni si ritiene d'accordo. Come vedete quello che succede è che molti degli italiani la maggior parte degli italiani ritiene che da parte degli esperti scientifici sialani ci siano stati pareri troppo diversi e si sia creata confusione hm il giudizio sull'operato dipende da come in realtà hanno comunicato gli esperti scientifici questo abbiamo capito durante le nostre elevazione e con le analisi dei dati e come vedete il giudizio la la percentuale di persone che crede che da parte degli esperti scientifici italiani ci siano stati pareri troppo traversi e si sia creata confusione è anche cresciuta no? È sostanzialmente stabile tra ottobre e gennaio come vedete. Ancora ovviamente non vi tedio cerco di parlare pochino per poi tornare se avete domande ovviamente due delle domande che abbiamo fatto poi nuove e che adesso vi mostro riguardano abbiamo detto all'inizio abbiamo chiesto la percezione dei rischi poi ci siamo interrogati sui negazionisti quanti sono i negazionisti della pandemia questa è la domanda che abbiamo fatto per rilevare questa cosa come vedete un'invenzione totale per giustificare decisioni politiche ed economiche una è un'alternativa di risposta che scelgono il 6,5 per cento degli italiani ad ottobre e che diminuisce anche hm nell'ultima rilevazione arriva ad essere solo il 3 per cento hm il 70 per cento degli italiani a gennaio ritiene che sia una minaccia grave e concreta per difendersi dalla quale sono necessarie molto preoccupazioni un quarto degli italiani che vi vorrei far notare crede che sia un rischio reale ma che sia sopravvalutato da politica e media hm l'altra questione ovviamente la vaccinazione ne abbiamo parlato adesso quello che su cui noi proviamo a porre l'attenzione anche massimiano l'altro giorno con quell'articolo eh sul nature italia è eh la questione del piano di comunicazione vaccinale voi avete parlato del piano di vaccinale di distribuzione delle vaccinazioni dovevamo parlare anche del piano di comunicazione hm hm abbiamo chiesto se oggi le proponessero di vaccinale le personalmente il dato di ottobre ci aveva molto colpito perché si farebbe vaccinare immediatamente l'aveva detto solo il 36 per cento degli italiani eh a gennaio hm il dato cresce la percentuale cresce sensibilmente arriviamo a 59 per cento eh resta un 24 per cento che dice che si farebbe vaccinare ma non subito e i chi non si farebbe vaccinare scende a 14 per cento era il 21,5 per cento ad ottobre quindi le percentuali come dire migliorano su questa questione resta però appunto un problema di comunicazione sulle vaccinazioni mi permetto di dire come interpretazione abbiamo chiesto quindi anche le motivazioni hm del perché si farebbe vaccinare immediatamente perché si farebbe vaccinare ma non subito e perché non si farebbe vaccinare ovviamente vedete le percentuali valide di chi ha risposto hm perché si farebbe vaccinare immediatamente la risposta vedete più mh la con la percentuale più alta è mi fido degli scienziati hm e al secondo posto c'è possono esserci dei rischi ma i benefici sono superi sono comunque superiori mentre chi ha detto che si farebbe vaccinare ma non subito ritiene che non ci sono ancora abbastanza la maggior parte ritiene che non ci sono ancora abbastanza due dati su sicurezza ed efficacia hm e questi vaccini sono stati approvati troppo in fretta questi vaccini sono stati approvati troppo in fretta è la motivazione principale di chi dice che non si farebbe vaccinare hm il quarantaquattro il quarantacinque per cento scusatemi di chi non si farebbe vaccinare dice che ritiene che i vaccini siano stati approvati troppo in fretta e questi vaccini siano stati approvati troppo in fretta e il venti per cento dice che a letto ho sentito notizie preoccupanti su questi vaccini ok mi fermerei qui perché se avete domande o interpretazioni sono a vostra disposizione ovviamente allora intanto che raccogliamo le domande anche dal pubblico io faccio una mia domanda che pensavo mentre faceva vedere i dati relativi a dove ci si informa i social all'uso dei social io a volte quando vedo queste risposte ho sempre l'impressione che uno in fondo in qualche modo possa non essere sincero che pensi che ci si aspetta una risposta eh diversa vista tutta la comunicazione sul fatto che i social comunque sono fonte di disinformazione così che gli intervistati tendano più a dire no mi informo da canali ufficiali è verosimile questo o no lo chiedo proprio perché non conosco le metodologie no allora la questione è questa che se gli chiedi con quali fonti con quali fonti ti informa e ti informa noi facciamo questa domanda sull'esposizione alla scienza della tecnologia per esempio i social la percentuale di persone che dichiarano di informarsi attraverso i social è cresciuta negli anni cresce tantissimo ok la questione è quando poni la domanda mh ma con quale fonte qual è la tua fonte principale di informazioni no se chiedi qual è la tua fonte principale di informazioni poi social non sono la fonte principale di informazioni ci sono ma non come delle fonti di informazioni ma non sono la fonte principale e questo che resta no lo scarto che solitamente si vede è che è questo che resta non tanto eh mento perché perché se ti chiedo se ti informi attraverso i social tu mi dici di sì ma quando ti chiedo qual è la tua fonte principale di informazione sicuramente i social non sono la principale qual è la tua fonte principale di informazioni centri миллиone sui Grazie a tutti.